Io sono Renata Seccatore, sono da poco su YouTube, relativamente, però non ho mai girato dei video dove mostravo il mio volto e dove mi interfacciavo così vis-à-vis con voi. Quindi avrò bisogno di feedback, avrò bisogno di commenti da parte vostra e vi chiedo a cortesia se il video vi piace, condividetelo, lasciatemi un like e magari un commentino, così io capisco l'indice di gradimento. In questo video vi andrò a parlare di alcune creazioni che ho realizzato nel corso dell'ultimo periodo e alcune sono in realtà un pochettino più lontane nel tempo come origine. Io nasco come creativa, anche se la prima attività di mia competenza è la pittura, però non riesco a stare lontana anche da altri materiali e sperimentazione, mi piace tantissimo inventare. E quindi, prima ancora di presentarmi con la mia attività di pittura, ho deciso di fare questo piccolo video per fare la vostra conoscenza e farvi vedere un po' le mie creazioni, farvi vedere insomma la mia mente malata, cosa ho parto di esce, sperando che vi piaccia e di avere appunto un feedback positivo. Però adesso passiamo a una carrellata, facciamo un giro con la telecamera per vedere appunto questa piccola vetrina, questa piccola esposizione che vi ho preparato apposta per voi, apposta per farvi vedere le mie piccole meraviglie, perlomeno per me sono piccole meraviglie. E quindi, e quindi voglio la conferma, fatemi sapere, a voi le mie meraviglie. Ecco una carrellata, dei gioielli fatti negli anni, nell'ultimo periodo, vari esperimenti, questo lo adoro, l'ho messo tantissimo, è la stessa pietra che ho al dito e anche questo è una mia creazione. Questo è stato un esperimento fatto con il DAS, ma così per giocare senza nessuno scopo particolare. Ah no, volevo farne un ciondolo in realtà, però è risultato pesante e quindi io non supporto le cose troppo pesanti, non lo metto in realtà. Questa è una collana fatta con le perline e questa è una pietra, è un'ossidiana colorata di blu, mentre invece questo è un portincenso che ho fatto sempre con il DAS e poi l'ho colorato con dell'acrilico e gli ho dato del trasparente sopra. Questo è uno degli ultimi arrivati, guardate che carino, l'unica cosa è piccolino come misura, a me va al mignolino. No, in realtà mi largo il mignolino, comunque non è molto grande come formato. Non li scelgo io i formati, nel senso che utilizzo gli stampi per la resina e poi dipendono un po' dal formato degli stampi. Qui a cascata, vedete che in realtà è un po' come un percorso, solo che al posto è un divago, solo che al posto ci sono diverse pietre, diversi ciondoli. Questi sono fatti con il filo metallico e quello trattato in modo che non si possa ossidare. Qui invece abbiamo sempre, in realtà non sono pietre, anche se apparentemente a colpo d'occhio potrebbero sembrarlo, ma sono di resina. Guardate che carino che è venuto questo, questi li avevo fatti per fare dei mercatini, ma a causa covid non ho potuto. Questo in realtà che vedete in questo espositore virtuale, in realtà è un misto tra dei pezzi che ho fatto per me stessa, come per esempio questa collana che è realizzata con la carta. L'ho fatta qualche anno fa e quindi non l'avrei portata al mercatino, però magari ne avrei fatti altri pezzi non miei. Oppure questi orecchini che sono fatti sempre con l'alluminio anodizzato, finalmente mi è venuta la parola, e rappresentano la colonna vertebrale con i vari chakra, ogni perlina rappresenta un chakra e che per chi è interessato e conosce l'argomento sa già che sono sette e che hanno diversi colori, ciascuno ha il suo colore. Questi colori hanno ovviamente delle proprietà particolari, ma non mi dilungo troppo, altrimenti diventa troppo lungo il video. Queste sono delle altre creazioni dove c'è la pietra, in questo caso questa è una metissa, manca l'altro orecchino, non so dove l'ho messo, quindi vi faccio vedere solo questo, e anche questo l'ho fatto per me stessa, ma volendo è ripetibile. questo è sempre filo metallico, questo è madre perla, eccolo qua, e poi ci sono due ametiste. Per chi ha letto il mio blog, sa già che questi sono sempre i ciondoli in resina, che sono stati fatti con l'idea di sfruttare le proprietà delle piante che sono state inserite all'interno della resina. Questa qua è un'achillea, in realtà poco riconoscibile, perché quando ho incominciato a fare questi ciondoli, questi sono i primi che ho fatto, non avevo idea che una volta che la pianta fosse stata inserita nella resina, durante il processo di indurimento, ci sarebbe stata un'alterazione chimica che ne avrebbe variato il colore, notevolmente, e questo serve per lavorare sui propri confini, per non invadere i confini altrui e non fare invadere i propri. questo è stato fatto con il fondo, in resina, ed è stato fatto con il fondo di un contenitore, per biscotti, in realtà, devo ancora rifinirlo, queste, queste parti, questa parte qua, verrà scartavetrata, e gli passerò un lucido, per rendere più brillante l'effetto finale. Questo è fatto con il caglio, ovvero quella pianta che trovate nei prati, normalmente ha dei fiorellini gialli o bianchi, mentre invece in resina diventa, in questo caso è diventata nera, in altri casi è rimasta bianca, non ho capito bene come mai. Va molto bene per i periodi in cui avvengono delle profonde trasformazioni. Diciamo che i presupposti sono gli stessi che quelli che vengono utilizzati per le pietre, e quindi si guarda il colore, perché il colore ha comunque una proprietà guaritoria, mettiamola così, perché agisce sul nostro sistema nervoso, nel momento in cui posiamo lo sguardo su qualcosa, su una tinta blu, per esempio, che è un colore freddo, avremo come effetto un rallentamento del movimento del sistema nervoso. Sono cose assolutamente provate. Anche qua vi do solo l'accenno, poi scriverò degli articoli sul blog più approfonditi, ma è sempre per non... è un assaggio questo. Questa è una pietra molto particolare, che se non mi sbaglio... sapete che c'è la pietra del sole e questa qua è la pietra della luna. A me fa pensare... perlomeno me l'hanno venduta così, poi se mi hanno detto sciocchezze non è colpa mia. Anzi, se qualcuno che guarda il video mi sa dare delle indicazioni più precise, ben volentieri. E mi ricorda il cielo stellato. La mantatura è stata fatta sempre con il filo di allume. Un po' più particolare perché ne avevo trovato uno che aveva una lavorazione non liscia. E non è male, non mi dispiace. Sembra quasi un po' che abbia le scaglie del serpente. Ecco, caduto. Qui è un esperimento, che tutto sommato non mi dispiace. Questo è sempre Achillea. Molto sottile. Questo è il retro. Questa è la parte davanti, il cordino è provvisorio. Ovviamente con una catenina sicuramente renderebbe di più. Ma lascio a descrizione. Queste in realtà le ho copiate. Le ho viste su una bancarella e me le sono fatte. Perché le ho trovate veramente troppo troppo carine. Anche se in realtà, come le ho viste, erano bucate. Cioè gli orecchini avevano un buchino e la montatura era fatta utilizzando questo buchino. Come se l'avessero fatta diventare una perlina. E invece io ho utilizzato lo stesso metodo che uso per le gemme. E io l'ho avvolto attorno, bello stretto, e direi che è abbastanza fermo. Come per esempio ho fatto qui. Questa è sempre agata, ma è agata verde. Qui la forma è quella della pietra, però in realtà è sempre resina. Sono i primi esperimenti che ho fatto. Questo è con l'echiseto. L'echiseto, questo serve per la durezza. Dovrebbe aiutare ad essere più solidi. Sì, me l'aveva consigliata la mia insegnante di naturopatia. E di portarla addosso. E in realtà io non sapevo bene come fare per portarla. Questa non mi ricordo, scusate. Che cosa ci avevo messo? Vediamo. Non me la ricordo. Grazie. Il mercatino che volevo fare, che mi stavo organizzando a fare ultimamente, anche perché dovevo preparare un po' di materiale, è questo qui. Ah, questo qua è verbasco, che si utilizza a livello di erboristeria per le affezioni di tipo respiratorio. Quindi direi che in questo periodo, boh, soltanto questo dovremmo portare. Solo che in realtà non ne ho tantissimi, perché li raccolgo freschi, e poi ancora da freschi li utilizzo. Questo invece è caglio, che però ha fatto reazione con la resina, e quindi si è creata tutta, credo che il rilascio dell'umidità, che era all'interno della pianta, del fiore, ha lasciato questo particolare effetto di bianco tutto attorno. Che comunque è interessante. Vedete che io ho messo il gancetto, poi uno può mettere la catenina che desidera. Questo è un albero della vita, è un ciondolo che mi piace molto, lo utilizzo come portafortuna. mi sono spaccata le dita a farlo, perché stringere le maglie forte non è una cosa così... sembra facile. E questo qua è un opale. Ecco qui, poi vedete ci sono dei braccialetti in resina, anche lì per chi mi segue come blog ha già un'idea di cosa si tratti, sono sempre fatti con gli stampi. Questo è un anellino molto divertente, fatto con un centesimo, che ha avuto l'unica colpa di essere sopra la mia scrivania, in un momento in cui avevo la base per fare gli anelli, ovvero questa. Questa qui. Ci sono due tipi, uno è il tondino di appoggio più piccolo, l'altro c'è la più grande, e con un po' di colla per bigiotteria, voilà. Mentre qui sono già pronti dei vari pezzi fatti con la resina per realizzare degli anellini. Sempre a proposito di anellini, vi faccio vedere ancora questo. che è fatto con il feltro e l'ho portato tantissimo. Ne avevo fatti anche diversi e poi ho fatto regalini a Natale e sono dietro, vedete il mio banco di lavoro, il lavoratorio, eccetera. Terribile. Vabbè. Questo è carinissimo e è fatto con il feltro. Mentre questo qui è fatto con il filo metallico. resina. All'interno c'è una pietra di ametista. Ho mescolato le due cose. e qui abbiamo un braccialetto in resina che andrò ancora poi a rifinire perché qua è ancora da ultimare. Però volevo farvelo vedere perché, se ci riesco, per rendervi conto della misura insomma, questa è la misura con due mani non riesco ad infilarlo. Però fate pazienza. Forse ce la faccio. Forse ce la faccio. Ok, ce l'ho fatta. Ecco qua. Infilato. Eccoci di nuovo vis-à-vis. Allora, adesso avete fatto questo piccolo tour e quindi aspetto assolutamente i vostri commenti. ovviamente non è che vi ho fatto vedere tutto quello che ho fatto. Cercherò poi di recuperare anche un po' di foto da Facebook. Vecchie cose che ho pubblicato dove ci sono altre mie invenzioni. Alcune alcune cose sono state prese comunque ho avuto degli spunti non sono ma guardando un po' là ho interpretato e voilà ho inventato regalini di Natale e quant'altro. Nell'ultimo periodo come vi dicevo prima stavo in realtà pensando di fare dei mercatini per cui ero già pronta. Avevo fatto già dei mercatini per quanto riguardava i miei dipinti e sono riuscita a vendere a qualcuno dei ritratti che proponevo e quindi devo dire che è andato abbastanza bene. e adesso mi ero procurata il gazebo insomma tutta la documentazione a posto con la testera del lobbyista eccetera e arriva il lockdown e quindi non se ne fa niente ma almeno mi tolgo la soddisfazione di esporre lo stesso alcune delle cose che ho fatto. se vi fa piacere potete seguirmi sul mio blog il sito è www.renataseccatore.com molto fantasioso e troverete alcuni degli articoli vabbè alcuni gli articoli che ho scritto con argomenti svariati che parlano di colore parlano di creatività parlano di pittura ma anche di artigianato di carattere artistico appunto tipo quello che vi ho fatto vedere seguitemi seguite cioè così saprete che cosa combino le mie nuove le mie nuove fantasie dalle illustrazioni c'è un paio di idee ragazzi che te ne finito occhio un saluto un bacione a tutti mi raccomando il like e commento like alla pagina e like al video mi raccomando un saluto Grazie a tutti.